E' stato presentato lo scorso venerdì 26 novembre presso la Fondazione Mezzogiorno Europa Palazzo Reale a Napoli il libro a cura di Carmine Matarazzo e Michele Giustiniano Il Vangelo secondo Diego. L'opera, un compegno di testi raccolti dalle parole di varie personalità in diversi modi vicino al campione argentino, vuole descrivere l'uomo maradona da un lato più spirituale e sociale, piuttosto che soffermarsi sulle note prestazioni in ambito sportivo o sulle sue libere scelte di vita personale. Nessuno di noi ha mai avuto l'intenzione di candidare Diego ad alcun processo di canonizzazione ma si è trattato semplicemente di capire come la sua fede genuina abbia ispirato tante azioni in campo e fuori dal campo. In particolare Diego ha incarnato istanze e valori tipici del Vangelo come l'opzione preferenziale per i poveri di cui parla sempre Papa Francesco. I poveri, gli oppressi, i diseredati, gli ultimi per dirla con una parola evangelica attraverso i suoi gol, attraverso le sue azioni, attraverso le sue magie in campo diventavano i primi. Questo libro è nato dall'idea di presentare a tutti un po' degli aspetti positivi, degli aspetti buoni del Diego Maradona, visto e considerato che le doti calcistiche sono ormai conosciute da tutti. Le vicende umane molti le hanno raccontate, anche forse criticate, però c'era tanto bene nell'animo e nel cuore di questo ragazzo, chiamiamolo così, che era bello poterlo raccontare. E' anche un tentativo di sottrarlo alla gogna mediatica, ma anche un tentativo di evitare che diventi poi un idolo, un'idolatria per la gente. Il tempo che abbiamo trascorso a individuare i temi del Vangelo secondo Diego è stato molto di più di quello che abbiamo poi passato a scrivere. Il motivo è l'interrogazione che tutti abbiamo posto a noi, e quindi noi come gruppo e poniamo gli altri, se Maradona qualcosa da dire come cristiano e cristiani, evitando facili giudizi. Ad onorare il più famoso numero 10 anche colui che lo portò a vestire la maglia del Napoli, l'ex presidente azzurro Corrado Ferraino. Battere praticamente le squadre del nord, dell'Italia centrale, portare degli scudetti a Napoli, al sud, dove non era mai successo che una squadra fosse riuscita a vincere praticamente uno scudetto, è stata una cosa difficile, ma molto bella e molto appassionante. L'abbiamo fatto soprattutto, tutti quanti insieme, ma soprattutto con il nostro capitano che era Maradona.